Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace. E' il versetto di Galati 5.22 che è stato scelto per la settimana di evangelizzazione di quest'anno e da cui ho preso spunto per le mie riflessioni di fine sinodo da condividere con voi. Un sinodo che è stato particolarmente intenso e produttivo sia per il contesto di eventi in cui si è svolto quest'anno, sia perché tutto sommato questa macchina parlamentare, sinodale, ha funzionato meglio di altre volte per il contributo di tutti e tutte noi. Noi e devo dire, vorrei dire, anche grazie all'opera molto efficace delle commissioni di esame e del seggio, che ci hanno aiutato a procedere in modo ordinato e spedito. Quindi un sinodo che mi è parso particolarmente intenso e produttivo. Il frutto dello spirito è amore, scrive l'Apostolo. Beh, quest'estate è stata e tuttora un'estate infuocata in cui si è intensificata la polemica sull'accoglienza dei profughi in Italia e in Europa. L'uso strumentale che alcune forze politiche fanno di questo dramma umanitario-planetario per chi ha una coscienza cristiana si giudica da sé. Rinfocola facilmente ciò che la predicatrice del culto inaugurale ci ha ricordato e cioè che tutti noi siamo per natura, naturalmente, predisposti a sentimenti di pregiudizio, razzismo, nazionalismo. E appunto è questa predisposizione naturale che viene solleticata e strumentalizzata. Ma per chi ha una profonda coscienza cristiana, appunto, questa strumentalizzazione si giudica da sé, così come si giudica da sé l'accusa che c'è stata in questa estate così infuocata, l'accusa alle chiese di contribuire con il loro impegno di accoglienza pratica e di contrasto ai sentimenti di esclusione di cui ho appena parlato, si accusano le chiese di contribuire a estendere un fenomeno che secondo questi critici si potrebbe risolvere con muri di separazione e schieramento sui confini di esercito e marine. Insomma, il buonismo o l'accoglienza farebbero parte di quegli elementi che solleciterebbero, più della guerra, delle violenze, delle persecuzioni, della fame, più di questi elementi solleciterebbe i viaggi drammatici alla ricerca della vita. Un'accusa che si giudica da sé. Noi ricordiamo, così come abbiamo fatto nella serata pubblica di lunedì sera e ribadito anche negli atti sinodali su questo argomento, che ciò che muove il nostro impegno è la lettera e lo spirito del Vangelo che ci impongono di accogliere lo straniero, l'orfano e la vedova. Tutto qui, ma non è poco. È quell'Evangelo che noi predichiamo dalle nostre chiese e dai nostri pulpiti che ci chiede di aprire la porta della nostra casa europea, che ci impone di dare da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, perché, come abbiamo ricordato più volte, solo accogliendo chi soffre si può accogliere Cristo. Ricordo l'immagine che ci ha colpiti dell'icona della chiesa ortodossa, ce l'ha parlato l'onorevole Mario Marazziti lunedì sera, che illustra la parabola del buon samaritano dipingendo lo stesso identico viso, i tratti del viso, sia del samaritano che aiuta, sia del viandante che è stato derubato e picchiato dai banditi, che è al margine della strada. E questo viso è poi il viso di Gesù. I cristiani, ci vuole dire questa icona, sono insieme soccorsi, oggetto di soccorso, ma anche soccorritori. Soccorsi dalla grazia di Dio, soccorritori nell'amore del prossimo. Non c'è distinzione, è un'unica azione. Questo è dunque il mestiere dei cristiani. Un mestiere che noi svolgiamo sia con un servizio diretto di aiuto, e lo abbiamo visto, la diaconia, le case di accoglienza e altro, sia con un insegnamento, la predicazione, con cui intendiamo scuotere i cuori e le coscienze, soprattutto di coloro che pensano che i drammi sociali e umanitari non ci riguardano e che voltano la testa, chiudono gli occhi e passano dall'altra parte della strada, come ricorda appunto Gesù nella parabola del buon samaritano. che termina con queste parole, Luca 15. Quale di questi tre, chiede Gesù, ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatte nei ladroni, i tre che passano, sappiamo sono tre individui, di cui il terzo è il samaritano. Quegli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa. Va e fa tu anche tu la stessa cosa. Questo è il comandamento. Senza guardare in faccia nessuno, va e fa tu la stessa cosa a chi è sul margine della strada, derubato e picchiato, ferito, prossimo alla morte. E si giudica anche da sé l'accusa strumentale, rivolta anche alle chiese, di occuparsi dei profughi e non degli italiani nel bisogno. Sono tutte cose che sentiamo sempre e che abbiamo sentito in modo particolare in quest'estate infuocata. Beh, in questi anni di difficile, profonda crisi economica non è diminuito, ma anzi è aumentato l'impegno delle chiese e dei cristiani anche verso gli italiani e le italiane, non soltanto verso chi arriva da paesi spesso lontani. È aumentato l'impegno delle nostre chiese sia direttamente con piccoli e grandi aiuti della diaconia evangelica, sia indirettamente associando la nostra azione con il finanziamento dell'otto per mille, quella di centinaia di associazioni che intervengono a dare sollievo in campo assistenziale, sanitario, sociale e educativo. Quest'anno il Sinodo ha deciso di portare la quota di servizio, di aiuto dell'otto per mille fino a un massimo del 60% delle quote che riceviamo e noi siamo vicini a quella cifra. E una delle riflessioni che ha fatto la Commissione Otto per mille nell'esame e poi nell'approvazione dei progetti è stata la quantità di progetti giunti quest'anno da parte dell'associazione di familiari di persone che vivono situazioni di disabilità psicofisica e di disagio che si sono ritrovati spesso da un giorno all'altro senza alcun aiuto di assistenza pubblica. E appunto questo intervento c'è stato e ci sarà. Ringraziamo perciò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo saluto augurale al Sinodo un saluto per nulla formale lo abbiamo tutti notato e che giustamente il Sinodo ha apprezzato in modo particolare. Un saluto augurale in cui il Presidente Mattarella riconosce che la Chiesa Valdese si muove da tempo nella società italiana aderendo ai caratteri di una cultura democratica basata sulle idee di libertà e uguaglianza e promuovendo opere sociali di grande valore nell'accoglienza agli immigrati nel sostegno alle persone anziane a quelle bisognose nel contrasto alla dispersione scolastica nell'azione formativa all'interno delle carceri nell'aiuto ai disabili e ai loro percorsi di integrazione nell'impegno per la legalità e il bene comune. Il frutto dello spirito è amore scrive l'Apostolo un amore che nutre il corpo e l'anima che non guarda chi sei da dove vieni e che cosa hai fatto ed è per questo che scandalizza perché non giudica scandalizza soprattutto quello che è chiamato il mondo cioè chi ha riferimenti mondani di valutazione e non riferimenti di fede riferimenti cristiani ma questa è la nostra missione che noi anche in questo sinodo abbiamo voluto ricordare e ribadire in modo chiaro lo facciamo perché siamo cristiani e non perché siamo politicamente corretti il frutto dello spirito è gioia scrive anche l'Apostolo ma come si fa a essere nella gioia in situazioni così difficili quando i più giovani hanno difficoltà come non mai a trovare lavoro e quindi a progettare il loro futuro come si fa a essere nella gioia quando lo stato sociale di cui gli europei vanno giustamente fieri riduce a volte anche drasticamente il proprio sostegno anche ai più fragili e deboli come si fa a essere nella gioia quando ti sembra ti sembra che il mondo si riversi a casa a casa tua dove già tu fai fatica a vivere come fai noi viviamo tempi difficili complessi ci auguriamo che il futuro prossimo sia migliore ma non so se sia realistico pensare che torneremo nella situazione precedente questi anni di crisi economica e sociale profonda forse secondo me probabilmente dovremmo fare i conti in modo stabile con la necessità di uno stile di vita per usare un eufemismo più sobrio uno stile di vita con meno cose con meno cose con meno risorse economiche e forse anche con più precarietà ma meno cose non esclude che si possano trovare cose migliori meno cose ma migliori così come non esclude che meno risorse economiche non possano significare più risorse di socialità e di comunità potremmo persino scoprire che si può essere più felici e uso questo termine felici non a caso con ricchezze diverse da quelle sulle quali abbiamo costruito per decenni la nostra progettualità personale e sociale lo stesso per la chiesa e per la sua organizzazione modelli diversi in cui alle minori risorse economiche corrispondano e ne abbiamo parlato molto più risorse di fraternità e corresponsabilità anche ministeriali in questa concentrazione su meno cose potremmo persino trovare una rinnovata ispirazione per azioni più mirate e consapevoli di evangelizzazione più mirate e più consapevoli che facciano appello alla coscienza di ciascuna e ciascuna affinché si aderisca alla fede in Gesù Cristo e ci si associ alla nostra chiesa azioni che comprendano chi non è mai stato credente ed è una quota crescente di persone che incontriamo quotidianamente sulla nostra strada azioni che comprendano anche chi lo è stato nel passato e poi si è perso o è andato altrove oppure che comprendano anche chi lo è in modo diciamo intermittente come quei fiumi carsici che sono in superficie poi ogni tanto sprofondano non ci sono più e poi spuntano fuori più lontano intermittenti perché il frutto dello spirito è gioia scrive l'Apostolo una gioia che nutre il corpo e l'anima una gioia che nasce dalla scoperta di un tesoro di una risorsa che non può essere consumata o attaccata da niente e nessuno come dice Gesù ed è riportato nel Vangelo di Matteo capitolo 6 non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consuma e dove i ladri scassinano e rubano ma fatevi tesori in cielo dove ne tignola ne ruggine consumano e dove i ladri non scassinano ne rubano poiché dov'è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore è una sfida per noi oggi e scrive l'Apostolo Paolo il frutto dello spirito è pace oggi il mondo è attraversato da guerre guerre che purtroppo qualche volta troppo spesso per noi si combattono nel nome di Dio succede anche alle porte del nostro continente europeo è successo anche nel continente europeo negli anni 90 del secolo scorso questa pretesa blasfema di una religione ridotta ideologia di violenza e di vendetta scuote la nostra coscienza e ci impone di seguire con ancora più determinazione la strada opposta quella del dialogo e non del conflitto per contrastare ogni parola o gesto di offesa oltraggio e violenza nei confronti di altri credenti di qualsiasi religione e comunque di altri esseri umani perché per noi cristiani a qualunque confessione apparteniamo il richiamo a essere operatori e operatrici di pace non è un ornamento retorico della nostra fede non è un modo di dire ma è il cuore della legge di amore e riconciliazione voluta da Gesù Cristo il dialogo interreligioso e il cammino ecumenico fanno parte integrale di quest'opera di superamento della conflittualità più o meno armata che nei secoli passati ha prodotto anche in terre europee i drammi che sappiamo un impegno che ormai parte da una consapevolezza sempre più diffusa e profonda come abbiamo avuto modo di dire altre volte una consapevolezza per cui nessuno è autosufficiente a se stesso nessuna chiesa nessuna comunità nessun predicatore o predicatrice nessuna cristiano e che ciascuna e ciascuna abbiamo bisogno insomma gli uni degli altri ciò vale in modo del tutto particolare all'interno del cristianesimo l'ecumenismo lo abbiamo detto a Torino è la fine dell'autosufficienza delle chiese del pensarsi senza a prescindere o contro le altre ogni chiesa deve tenere conto che esistono anche altre o che addirittura si ha bisogno delle altre anche per confrontarsi e chissà completarsi e anche per realizzare la propria vocazione non possiamo essere comunque più cristiani da soli il sinodo ha accolto con riconoscenza le parole di Papa Francesco che ci sono state rivolte per il secondo anno consecutivo a questo sinodo il solo fatto in sé mi pare essere un segno di fraternità reale e profonda verso questa piccola assemblea ecclesiastica che insiste Papa Francesco a chiamare sinodo della chiesa valdo metodista insomma un'espressione imprecisa che usiamo ampiamente anche noi ma comunque sinodo della chiesa e che mi pare nel suo messaggio ha posto in modo condivisibile la scala di priorità di questo cammino ecumenico evangelizzazione e servizio al prossimo quando ci scrive il Signore conceda a tutti i cristiani di camminare con sincerità di cuore verso la piena comunione per testimoniare Gesù Cristo e il suo Vangelo cooperando al servizio dell'umanità in particolare in difesa della dignità della persona umana nella promozione della giustizia e della pace nel dare risposte comuni alla sofferenza che affligge tanta gente specialmente i poveri e i più deboli questo sinodo ha risposto positivamente a questo invito con la riflessione che abbiamo fatto con le decisioni che abbiamo prese così come ha risposto positivamente alla sua richiesta di perdono pronunciata pubblicamente nell'incontro di Torino sappiamo che qualcuno non ha capito o non ha voluto capire questo sì articolato e riflessivo non frettoloso e banale perché non si possono banalizzare frettolosamente secoli di sofferenze prima e di pregiudizi poi non si può e chi mi chiede insomma l'avete perdonato o no ecco punto non si può perché non è stato capito da qualcuno per ingenuità forse per impreparazione o forse perché una maggiore comunione cammina lungo ma una maggiore comunione e collaborazione tra chiese cristiane è ritenuta impossibile quindi tu non ascolti quello che viene detto ma quello che pensi che venga detto oppure viene ritenuta non auspicabile perché c'è da difendere interessi identitari o altri ma il discorso che abbiamo sentito poche ore fa qui al sinodo da Monsignor Bruno Forte a nome dei Vescovi italiani ha confermato che un nuovo cammino è possibile persino su questioni teologiche antiche e divisive ricercando questo mi è sembrato il passaggio più interessante di quello che oggi Monsignor Bruno Forte ci ha detto soluzioni fin qui non esplorate o troppo poco esplorate ma la domanda è perché sarebbe possibile fare oggi quello che non è stato possibile fare fino a un momento fa perché che cosa c'è dietro pensa qualcuno e però guardate oggi ci anima una più intensa e rispettosa fraternità nutrita non lo possiamo dimenticare da decenni di confronto comune sulla scrittura gli studi biblici insieme le facoltà teologiche che si ospitano che ospitano reciprocamente i docenti la diffusione della Bibbia la traduzione della Bibbia il confronto comune sulla scrittura sul centro che nutre la fede cristiana da decenni e da una pratica di preghiera e di servizio nonostante i periodi di stanchezza che ci sono stati e che anche noi abbiamo denunciato che però ci ha permesso di conoscerci per ciò che oggi siamo realmente e non per l'immagine che ci siamo fatti gli uni degli altri questa conoscenza produce fiducia tanto che ci parliamo senza rete non ci registriamo prima e stabiliamo se è il momento di parlarci ci parliamo in diretta rischiando appunto è una grande novità forse non escluso che ciò è possibile anche per il bagno di umiltà cui ci costringe la postmodernità Bruno Forte ha parlato di quello un bagno di umiltà salutare che contrasta orgogli confessionali o denominazionali che non hanno alcuna base evangelica ma che nell'affanno che abbiamo noi chiese cristiane in Europa diciamo ci aiuta a essere più umili più fraterni ma certamente anche gli altri aspetti il cammino fatto fino adesso è un rischio che ci prendiamo a vicenda perché quando ci si avvicina ne sappiamo qualcosa 40 anni di integrazione metodista e valdese quando ci si avvicina poi si scopre se è più facile amarsi da lontano o da vicino è un rischio ci avviciniamo certo non possiamo paragonare il percorso dell'integrazione a questi passetti o passi che stiamo facendo però ci assumiamo tutti le due parti dei rischi quando ti avvicini però questo è il punto in cui noi siamo oggi care sorelle cari fratelli cari amiche e amici che guardate a noi con simpatia qui stiamo in questo punto in questa Italia in questa estate così calda con questi eventi che hanno reso il contesto del nostro sinodo 2015 particolare un po' diverso da quello degli anni passati noi qui stiamo e ci stiamo con convinzione perché quello che mi ha molto colpito nella nostra riflessione è che la riflessione è stata profonda diversificata in qualche momento contrastata sui punti che ho sintetizzato e ho toccato queste breve riflessioni ma quando è arrivato il momento di votare c'è stata una coralità insomma abbiamo capito che questo è il punto in cui stiamo e ci stiamo in modo convinto per dare la nostra testimonianza per evangelizzare per testimoniare per svolgere il nostro servizio allora le parole dell'Apostolo Paolo ai Galati questo versetto che viene proposto dalla Commissione per l'Evangelizzazione che io sponsorizzo continuamente perché ci aiuta in un campo difficile questo versetto dell'Apostolo Paolo il frutto dello spirito e amore gioia e pace acquista una concretezza in questa estate 2015 nell'esperienza di sinodo che abbiamo avuto molto particolare essere cristiani e cristiane confessarsi discepoli e discepoli di quel Gesù morto sulla croce per noi e per noi risorto la riflessione che abbiamo fatto venerdì scorso nel convegno nella giornata miege comporta anche oggi una grande responsabilità in questa Italia in questa Europa del 2015 da tutti i punti di vista comporta una grande sensibilità sensibilità umana spirituale qualche volta comporta anche un grande coraggio il coraggio anche di scandalizzare perché si segue come siamo in grado l'insegnamento del grande maestro dell'amore disinteressato che è stato Gesù un grande coraggio una grande sensibilità una grande responsabilità ma noi siamo convinti di non essere soli sappiamo di non essere soli non soltanto perché una ritrovata più ampia fraternità ci rende meno soli ci accompagna ma perché sappiamo che dall'alto ci accompagna qualcuno di più grande di noi di tutti noi messi insieme che il Signore care sorelle e fratelli ci benedica e ci guardi e ritornando alle nostre chiese ritorniamo più forti più motivati per compiere l'opera dell'Evangelo al prossimo sinodo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.